Ciao ragazzi, allora, volevo fare questo video da un bel pezzo, ma sono stra-mega impegnato per la ripartenza di UMT, per i miei dischi, per la mia vita personale, lo sport, la scrittura di altri libri e i cazzi miei, ok? E questo sarà un video molto interessante perché partirà dalla definizione di una parola in inglese, ossia lane, lane, l-a-n-e, che in inglese significa corsia, strada, termine abbastanza blando. Infatti c'è un gruppo che io adoro, fantastici, i North Lane, che sono un gruppo fantastico, andatevi ad ascoltare, che sarebbe corsia del nord, una cosa del genere, un termine automobilistico, ma che cazzo c'entra con i video che ho fatto fino adesso, tutto questo? Questa cosa c'entra e come? Perché le persone tendenzialmente, il 99.9% non ha capito questa cosa, ossia che le persone singole, anche se sono connesse da un unicum, campo unificato, campo mentale, inconscio collettivo, bla 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 bla, andate a studiare dei cazzo di libri, ok? Rupert Sheldrake, Freud, non tanto Freud ma più Jung, eccetera eccetera, gli archetipi. noi viviamo la nostra vita in un'unica strada, anche se abbiamo dieci mogli, come gli islamici, anche se abbiamo dieci figli, come i neocatecumenali, anche se abbiamo una mamma e un babbo che ci supportano o non abbiamo nessuno, siamo noi che viviamo questa esperienza, come diceva il grandissimo genio, uno dei più grandi geni dell'umanità, Bill Hicks, subjectively. Noi viviamo la nostra vita dentro noi stessi, quindi continuamente paragonarsi agli altri, allo stipendio altrui, alla macchina, alla figa degli altri, che c'ha le tette più grosse della mia, al giardino che c'ha quel metro quadro in più o in meno, computer con più giga, i risultati altrui, quello che si è laureato, la Louis, io no, oppure io che suono più veloce dell'altro. non serve a niente, se non in contesti in cui magari a livello psicologico fondamentalmente noi possiamo migliorare grazie anche degli esempi, dei mentori, dei coach, tutto quello che volete, che noi scegliamo ad un certo punto. Questo è, e cioè noi viviamo dentro noi stessi, infatti il titolo di questo video si chiama ogni essere umano quando muore è solo, non importa se sei sposato, non importa se avrai una legacy dei figli, non importa se sei intelligente, stupido, mediocre, talentuoso, non importa niente a nessuno, tu vivi in una lane, in una strada che è praticamente individuale. Ecco perché la maggior parte delle persone sbaglia, perché si paragona costantemente all'esterno. È come se tu praticamente in un'autostrada, invece di andare verso il tuo obiettivo, devo andare a Milano, devo andare a Firenze, guardassi costantemente le altre macchine. Ci sono macchine più belle delle tue, le Bugatti, le Ferrari, le Lamborghini, le Porsche, o magari macchine peggiori delle tue, i carretti, di schifi vari, o macchine che vanno più veloci, più lenti, gente in moto, gente in bicicletta che fa il matto in autostrada. Tu devi capire, quando capirai questa cosa, cosa che ho capito ormai da tantissimi anni, infatti me ne sbatto altamente il cazzo di tutto quello che pensa la gente di me, e si nota anche dalle cose che io dico, dalle cose che io faccio, i risultati anche oggettivi che sto ottenendo. Questo lo dico proprio oggettivamente, pesantemente. L'essere completamente libero dal giudizio altrui, l'essere completamente, siano dalle persone che veramente mi interessano, amare chi veramente mi interessa nella vita, bla 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 bla, e cioè che tu nasci e muori da solo. Tutte le altre persone possono essere persone che ti amano, che ti vogliono bene, o persone che ti odiano e che ti mettono i bastoni tra le ruote, ma in ogni caso it doesn't matter. Non importa se hai cinque figli, o sette, uno, zero, non importa se sei ricco o sei povero, non importa se sei bravo o non sei bravo, la guerra o la vittoria, insomma, la perdita, chiamalo come vuoi, insomma, no? Il successo e il fallimento sono cose che dovrai affrontare da solo o da sola. Non ci sarà nessuno che potrà sostituirti a te, ok? Per il lavoro che dovrai fare con te stesso o te stessa, neanche il coach, neanche lo psicologo, neanche il mentor, il guru, il papa o qualunque altra persona, potrà entrare veramente dentro questa tua lane, che ovviamente è insostituibile, ok? Quindi molte persone che sono disfunzionali e quindi che, ah ma quello c'ho la ragazza figa, io no, oppure io non ho la ragazza, insomma, tutti questi discorsi di un continuo paragonarsi agli altri, competizioni e robe varie, non fa altro che distrarre quella che è la tua energia sessuale, che deve essere assolutamente diretta verso noi stessi, in maniera anche a volte egoistica, ossia sbatterse nelle palle di quello che pensa il vicino di casa, la moglie dell'amico che magari ti vuole scopare o quello che è, sono molto caustico stasera, non me ne fotto un cazzo, e andare avanti dritti verso quello che noi veramente vogliamo fare, le persone che veramente amiamo, le persone che veramente stimiamo, ma soprattutto noi stessi, e fare delle scelte morali in base a quello che noi veramente vogliamo, e quello è il vero viaggio, è un viaggio che tu fai non con tua madre, non con tuo padre, non con tuo figlio, anche se un giorno noi tutti moriremo sottoterra e marciremo con i vermi che ci mangeranno il corpo, il cervello, le palle, il cazzo, ok? Questo è, è soltanto quando capirete questa cosa, c'è chi la capisce a 40 anni, c'è chi la capisce a 18, c'è chi la capisce a 25, sarete in grado di prendere le redini della vostra vita in questa lane, in questa strada che è assolutamente insostituibile, perfino migliori, Giorgio Nardone lo cito spesso anche nei miei libri, Leonardo Leone, qualunque il grande genio dell'umanità, anche della crescita personale, non solo, nessuno potrà sostituirvi a voi, ok? Quindi se voi capite questa cosa e apprezzate anche le vere persone che vi stanno intorno, persone che vi chiamano spontaneamente, quando, così, per ridere, no? Persone che vi comprano i dischi quando i dischi sono gratis ovunque su Spotify, per darvi quei 10 euro in più, per comprarvi un panino, qualunque cosa che non sia ovviamente scontato, ma un giorno quando sarete stesi e tutti noi abbiamo questo destino, poi ci sono varie teorie che non sto a spiegare qua perché non avete le competenze per parlarne, questa è la verità assoluta, noi siamo delle cellule di un universo, sì, tutto è uno, bla bla bla, tutte queste stronzate, ma noi viviamo dentro noi stessi, io non vivo dentro la vita di mio padre, io non vivo dentro la vita di mia sorella, di mio fratello, io non vivo dentro il dolore di qualcun altro, posso soffrire per un problema che riguarda una persona di qualunque genere, insomma posso avere mille e mille situazioni, ma comunque è un qualcosa che devo affrontare da me, da solo, con me stesso, davanti allo specchio, questa è la verità assoluta.